Buona domenica a tutti, bentornati e benvenuti sul mio canale, iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto e lasciate un mi piace al video se sarà di vostro gradimento. Domani si parte primo turno del terzo slam dell'anno, Wimbledon è alle porte, il sorteggio è stato effettuato e ora non ci resta altro che attendere l'inizio delle partite di domani. Primo turno che è stato suddiviso su due giornate, lunedì 1 luglio e martedì 2 luglio, domani i match in programma sono molto interessanti anche perché avremo l'esordio del nostro Yannick Sinner. Sinner che giocherà sul campo numero 1 e sarà il terzo match in programma, verosimilmente dalle ore 17 in poi. Quindi salvo imprevisti vi annuncio già che sarò in diretta domani sera o nel tardo pomeriggio per seguire insieme il primo match di Sinner, il match d'esordio contro il tedesco Anfman. Domani servirà partire nel migliore dei modi, servirà partire con il piede giusto per Sinner anche perché abbiamo già detto, dopo ci torneremo un attimo su velocemente, del sorteggio di Yannick che non è un tabellone semplice, non sarà un percorso privo di ostacoli e di difficoltà, quindi è fondamentale nella gara inaugurale partire bene, vincere magari con un 3-7-0 e dare subito un segnale anche perché l'avversario tra tutti quelli che potrebbe incontrare Sinner poi da qui appunto alla conclusione del torneo è sulla carta un avversario veramente alla portata per Sinner, già incontrato agli US Open 2023 liquidato con un secco 3-0, 6-3, 6-1, 6-1 insomma Anfman ha 32 anni, a fine anno ne farà 33, un giocatore sì da non sottovalutare come tutti gli altri però anche gli ultimi risultati degli ultimi anni parlano per lui, pochi exploit, pochi successi, sembra quasi rendere di più nel doppio, quindi Anfman per Sinner non può rappresentare un ostacolo tale da stare proprio con le antenne dritte, dover seguire la partita con il fiato sospeso, è un avversario dove bisogna scendere in campo con la convinzione di essere superiore, di essere più forti, sempre con il giusto rispetto, ma la pratica va liquidata nel più breve tempo possibile anche perché poi il secondo turno, come abbiamo già detto, potrebbe rappresentare un'insidia ben maggiore sia nel caso in cui l'avversario di Sinner sarà Matteo Berrettini, ma anche nell'eventualità in cui l'avversario sia Fucsovic perché sento tanti già dare per scontato questo secondo turno tra Sinner e Berrettini, lato Sinner siamo tutti abbastanza concordi sul fatto che sia nettamente favorito per approdare il secondo turno, però Berrettini contro Fucsovic è una partita tutta da vivere, tutta da seguire dove sì magari l'azzurro parte favorito, ma aspetterei a dare per sconfitto già in partenza Fucsovic sinceramente, almeno per come la vedo io. Domani si terranno anche i match di Berrettini contro Fucsovic, di Bellucci contro Shelton, Navone contro Lorenzo Sonego, Arnaldi contro Francis Tiafo e Koffer contro Fabio Fognini, quindi più azzurri in campo, poi se non sbaglio giocherà anche Jasmine Paolini, Martina Trevisan nel tabellone femminile e anche Carlos Alcaraz scenderà in campo contro l'Aial. Ora, tornando un attimo sul tabellone, ho letto molti criticare il fatto che Alcaraz abbia la strada spianata, alcuni sono concentrati più sul percorso di Diokovic, altri su quello di Sinner e magari Alcaraz è rimasto un po' più lì nell'ombra e molti dicono, insomma, Alcaraz ha veramente un percorso semplice, agevole per quelle che sono le sue potenzialità, sino ai quarti di finale. Allora, mi sono fatto un piccolo schemino in cui adesso andremo a leggere turno per turno gli ipotetici avversari dei tre capi del ranking, ovvero Sinner, Diokovic ed Alcaraz. Diokovic invece sarà impegnato domani, scusate, dopo domani, ovvero il 2 luglio contro Kopriva, o Kopriva, scusate per la pronuncia. Come abbiamo detto, Sinner avrà Anfman al primo turno, mentre per quanto riguarda Diokovic, Kopriva, Alcaraz, Laial. Primo turno, diciamo, dove entrambi possiamo dire che hanno un avversario più o meno sullo stesso livello. Secondo turno, Berrettini, scusate, Sinner, appunto, Berrettini o Fukovic. Per quanto riguarda Novak Diokovic, due qualificati, probabilmente Oferley o Moro Canas. Per quanto riguarda Carlos Alcaraz, avrà o Vukic o Hofner. Oferley comunque ha fatto vedere buone cose durante questa stagione, forse rappresenterebbe un ostacolo un po' superiore rispetto a Vukic, però stiamo sempre parlando di giocatori iper-mega abbordabili per Alcaraz, che poi nel suo percorso al terzo turno troverebbe ipoteticamente o Francis Tiafoe o Matteo Arnaldi. Anche qui entrambi due giocatori da non sottovalutare, ma Alcaraz di un altro pianeta, mentre per quanto riguarda Diokovic, al terzo turno potrebbe trovare o Echeverry o Popperin, il nostro Yannick Sinner, tallo Grigsburg. Proseguendo con gli ottavi di finale, effettivamente abbiamo un Sinner che potrebbe affrontare Ben Shelton, avendo comunque già affrontato Grigsburg e o Berrettini o Fukovic, insomma, tutti avversari degni di nota. Un Djokovic che potrebbe affrontare Rune o Karen Kacianov, quindi il livello che si alza sensibilmente anche per Djokovic, mentre Alcaraz avrebbe o Umber o Baez, insomma, con tutto rispetto per questi giocatori, un Alcaraz che veramente potrebbe arrivare ai quarti di finale al 100% della forma fisica, al 100% delle energie spese, ma al contrario di quelle non spese. Per poi, anche ai quarti di finale, francamente, è veramente capitato nella parte di tabellone migliore, perché Rude, Paul o Bublik, Tommy Paul ovviamente, come avversari ipotetici dei quarti, abbiamo Rude che è tutto tranne che un giocatore abile sul veloce, quindi se Rude dovesse arrivare ai quarti di finale mi aspetto un Alcaraz veramente in carrozza contro il norvegese. Tommy Paul, per carità, bravissimo, migliorato tantissimo, giocatore che si sa adattare su tutte le superfici, ottimo battitore, se in giornata può anche fare l'impresa, però di certo non a livello di Alcaraz. E poi, per chiudere, il Kazako Bublik. Bublik sappiamo tutti che è un giocatore molto estroso, un giocatore che vive di alti, ma anche tanti bassi, quindi rappresenterebbe di certo un'incognita per Alcaraz, che però, vale lo stesso discorso per gli avversari detti in precedenza, partirebbe veramente super favorito. E poi chiaramente la semifinale, ci auguriamo contro Sinner per quanto riguarda Alcaraz, mentre Diokovic, essendo dall'altra parte del tabellone, potrebbe avere Urkrac, scusate, potrebbe avere Zverev, Rublev, insomma, è tutto da Ozzizipas, è tutto da vedere. Tornando sul nostro Yannick Sinner, quindi capiamo bene che è veramente fondamentale domani partire con il piede giusto, perché è vero che in quel diale Sinner ha fatto più partite al meglio dei tre set, in cui c'è finito il terzo set, grazie anche ai meriti degli avversari, e quindi è stato un bel banco di prova a livello fisico per arrivare nelle condizioni migliori a questo terzo slam dell'anno, dal numero uno del mondo, dove Sinner vuole sicuramente provare ad arrivare in fondo e vincere questo slam. Contro Anfman è fondamentale vincere 3-7 a 0, dare un segnale e stare in campo il meno possibile, perché poi gli impegni saranno di quelli intensi, saranno fitti già a cominciare dal secondo turno, ma anche il terzo turno stesso, non ci saranno partite facili, non ci saranno partite scontate, non ci saranno avversari materasso per Yannick Sinner. Sarebbe rispettoso dire che per Alkraz e per Djokovic ci sono, però diciamo che sulla carta ci sono degli avversari che rappresentano un livello inferiore a quello degli avversari di Yannick Sinner. Le antenne vanno tenute ben dritte, la guardia ben alzata, Sinner dovrà mettere in campo tutte le sue qualità migliori, perché molti sono pronti ad attendere una sua caduta dal numero uno del mondo, molti sono pronti a giudicarlo in maniera negativa per non essere riuscito ad arrivare in fondo a questo slam, quindi ogni gara andrà veramente affrontata con il piglio giusto. A cominciare domani dal tedesco Anfman, va battuto, va vinta la propria partita e poi un match alla volta, avversario dopo avversario, mettere in campo le proprie qualità migliori, avere un'ottima percentuale di prima servizio sarà fondamentale per non complicarsi la vita nei propri game in battuta e poi andare con i propri colpi. Sinner ha tutto per fare un gran Wimbledon, ha tutto per arrivare in fondo e domani, come ho già detto più volte, noi tutti ci aspettiamo un grande Yannick Sinner che sappia battere Anfman e al secondo turno, che sia Berrettini o Fucsovic, proseguire il suo percorso verso un qualcosa di grande. Noi ci diamo appuntamento più tardi per un altro video, vedremo se ci sarà qualche novità, se ci sarà qualche forfè di qualche giocatore che ha già preso parte al tabellone, insomma cercheremo un po' di fare il punto della situazione e magari commenteremo un po' anche le altre partite. Io vi do appuntamento per un altro video dopo e anche per domani per la diretta del match di Yannick Sinner contro Yannick Anfman, primo turno del terzo slam dell'anno, ovvero Wimbledon. Una buona domenica a tutti!